La mobilità sostenibile è fondamentale, è una mobilità che non deve inquinare, deve lasciare il mondo migliore come era prima, ma soprattutto deve essere una mobilità che consente a tutti di avere la città di 15 minuti, cioè il famoso discorso dove i servizi devono essere vicini, deve essere veloce, potersi muovere. Noi abbiamo un piano che conoscete tutti, che ci dà la possibilità con investimenti di circa un miliardo e mezzo nei prossimi 5 anni, per avere la possibilità di avere metropolitane su tutta la città e trasporto veloce anche sul mare. Questo è quello che serve. Dopodiché noi avremo un sistema di ingressi in città completamente digitalizzato che consentirà a tutti di poter entrare in città se non si inquina, oppure di applicare la congestion charge per quelli che è qui. Questo è il sistema delle città del futuro e noi vogliamo candidarci per essere una delle migliori città internazionali.